Grazie a Dottor Piga, ai nostri moderatori, ringrazio Dottor Farci e Giuseppe Secchi per l'invito perché in origine io dovevo semplicemente supportare l'intervento del Dottor Secchi che io ho iniziato a conoscere quando sono arrivato a lavorare in sanità dal 2004 circa poi sono curato perché c'è stato il concorso e stiamo stati assunti e poi ho avuto la fortuna di lavorare con Giuseppe anche se non ero alle dirette dipendenze e lui direttore del servizio e poi la concomitante necessaria partecipazione della mia direzione generale il Dottor Calabro che porta i suoi saluti anche a nome dell'assessore, l'attoressa De Francisci che hanno sposato in pieno la mia partecipazione anche in nome loro a questa manifestazione ma soprattutto per portare un contributo da un punto di vista proprio epidemiologico in senso stretto questo perché io farò una breve introduzione banale perché per me è un po' un ritorno alle origini io iniziai la mia professione tra virgolette come in origine un biologo molecolare lavoravo a Santissima Trinità, mi occupavo dallo screening HIV alla tipizzazione dei ceppi fine degli anni 90 in cui si dirimava quale ceppo per poter mirare in maniera più dettagliata la terapia antiretrovirale e a distanza di quasi 14 anni ritorno sull'argomento da un altro punto di vista che quello essenzialmente epidemiologico perché epidemiologico? Io sono attualmente coordinatore dell'osservatorio epidemiologico regionale che ha tra le sue mansioni, tra le sue attività cardine all'interno di un assessorato alla sanità attualmente nel servizio sistema informativo e osservatorio epidemiologico umano la valutazione dello stato di salute, l'accesso ai servizi fondamentalmente nella previsione della garanzia dei livelli essenziali di assistenza che questo è il mandato ministeriale che poi è anche quello che il ministero governa e osserva costantemente cioè deve preoccuparsi di garantire la capillarità e l'accessibilità ai servizi a tutti indistintamente ricordo che siamo in un servizio sanitario nazionale universalistico e mutualistico per cui questo è il mandato principale e poi chiaramente anche grazie all'ultima legge approvata in Consiglio regionale la 21, i primi articoli parlano di registri di patologia e parlano di rete epidemiologica regionale quindi come dire abbiamo ottenuto un grande obiettivo che è da portare avanti l'osservatorio si occupa anche di sistemi di sorveglianza che sono sistemi di sorveglianza di tipo qualitativo, quantitativo, ricordo passi, passi d'argento eccetera sorveglianza HIV, sorveglianza AIDS, oggetto di questa mia presentazione più anche altre forme estemporanee per esempio ricordiamo la sorveglianza H1N1 nel passato o la West End Disease più recente e così via perché dati, e questa è la sottolineo con forza dati, significano informazione oculata, attenta, precisa, puntuale che significano poi guidare scelte e decisioni e questo è estremamente importante sul bisogno, sui percorsi, sulle modalità di erogazione delle prestazioni sulla qualità ma c'è un piano nazionale esiti che è sponsorizzato dal Ministero della Salute che è capofila e l'agenas a nome di professor Perucci che lo segue e le esiti sono importanti perché è, diciamo così, la nuova frontiera della valutazione dei sistemi sanitari oltre a quelle legate ai costi che non è di mia competenza come siamo messi? partiamo dalla sorveglianza HIV il decreto del marzo del 2008 istituiva a livello nazionale la sorveglianza HIV io veni contattato dal COA e dalla professoressa Mura a partecipare nel marzo del 2011 a una riunione in cui si faceva il punto della situazione purtroppo, ahimè il facino che siamo abituati su Facebook a utilizzare ogni tanto ma qui ci scalza benissimo avevamo l'evidenza che la sorveglianza HIV era solo praticamente definita a livello della provincia di Sassi l'istituto malattie infettive di Sassi il direttore della professoressa Mura e chiaramente questo veniva come dire creava grossi problemi perché non avere la copertura a livello regionale come è stato accennato nell'intervento del dottor Secchi era rilevante da lì l'assessorato della sanità si è mosso ha detto bene fu costituito un gruppo tecnico in cui alcuni sono rappresentanti sono presenti qui in sala e si decise con un incontro formale il 9 giugno del 2011 di provare a diciamo così a portare avanti la sorveglianza e a estenderla a capillarizzarla in tutta la regione questo scusate l'isallineamento della slide della presentazione però purtroppo ci porta ad avere una riflessione che l'attuale rapporto COA che verrà reso disponibile presumo da domani io faccio alcuni acceni anche perché pensavo devo parlare ancora prima dell'intervento che era stato programmato in precedenza per cui c'è solo qualche accenno al dato nazionale se non per riferimento l'unica parte d'Italia che non compare sono le altre sette province della regione autonoma della Sardegna che non siano quelle di Sassari perché cosa dice il bollettino COA con i dati aggiornati al 31 dicembre 2011 praticamente che siamo passati la sorveglianza ci sono stati anche dei tentativi come ha fatto Sassari di fare un'analisi retrospettiva ma non tutta Italia si è mossa in questo senso e quindi i dati certi ultimi disponibili a livello nazionale sono 2010 e 2011 abbiamo queste nuove infezioni d'HIV intorno ai 3.800 o 3.500 circa casi registrati complessivamente in Italia c'è un forte fenomeno evidente di immobilità e di offerta sanitaria cioè regioni che esprimono più casi di quanti non ne vedano e viceversa regioni che fanno più diagnosi di quanti non abbiano casi residenti dall'85 comunque escludendo quelli in età inferiore a 15 anni un aumento costante dell'età mediana la diagnosi che è passata da 26 nei maschi a 24 nelle femmine nell'85 a 38 e 34 nel 2011 la classe più rappresentata è quella 35 e 44 anni nel 2010 e 25 e 34 nel 2011 aumenta la proporzione di donne ma pare che stia ritornando in diminuzione quindi abbiamo un rapporto maschi e femmine che dal 3 e 5 dell'85 a 2 nel 2001 e di nuovo al 3 nel 2011 e poi come è stato accennato e quindi il nostro trend nazionale conferma anche quello che vediamo a livello regionale c'è una diminuzione della frazione della percentuale di chi fa uso di droghe per iniezione dal 76 2 nell'85 al 4 7 nel 2011 un aumento della frazione di casi che sono attribuibili a trasmissione sessuale dal 1,7 dell'85 al 45 6 del 2001 e c'è un aumento della trasmissione tra maschi che fanno sesso con maschi quindi questo aspetto dell'omosessualità maschile che come dire sale dal 6 e 3 al 33 2 questo è quello che risulta nel rapporto ufficiale a parte l'errore che abbiamo fatto giustamente notare che quella è la provincia di Attuale la vecchia provincia di Sassari l'attuale che comprende la provincia di Sassari e di Olbiatempio di fatto è solo la realtà di Sassari che è indicata è quello che è evidente che quello che manca sono le restanti 7 province considerando anche il Biattempio che lì è compresa bene non c'è solo la sorveglianza che speriamo che speriamo di portare avanti e di mandare a regime ma c'è anche la sorveglianza AIDS quindi le notifiche di EDS conclamato dal decreto del 28 novembre 1986 dall'87 è il COA il centro operativo AIDS presso l'istituto superiore di sanità che coordina con le regioni la raccolta periodica e questo è diciamo così il dato che riguarda le notifiche di AIDS da che è iniziata la sorveglianza quindi complessivamente sino ad oggi sono state notificate per la regione Sardegna quindi sia quelle viste notificate da noi in regione sia quelle che i nostri residenti hanno visto a loro volta essere notificate fuori dal territorio regionale 1841 notifiche di EDS su questo dato ma c'è ancora come dire da lavorare perché fino al 2006 non essendo l'AIDS la mortalità per AIDS come dire una notifica obbligatoria non era facile desumere la mortalità semplicemente dalle schede di notifica allora il lavoro che ha accennato Giuseppe prima e che fu fatto è stato fatto a livello nazionale andando a confrontarsi con una chiave di linkage anonima sul registro generale della mortalità presso l'ISTAT questo lavoro è stato fatto sino al 2006 quindi chiaramente c'è stato un decremento impressionante della mortalità dai valori del 100% nell'84 praticamente al 187 nel 2006 e a valori che dal 2007 al 2011 vedete lì i tabulati molto probabilmente sono però leggermente superiori perché non c'è questa verifica dal 2006 in poi che il COAS si sta organizzando per rifare diciamo non c'è questa verifica dello Stato in vita direttamente dai registri di mortalità ISTAT bene questo è il dato che abbiamo sui 1841 casi complessivi vedete la segnalazione e la residenza quindi si ripete e si conferma questo fenomeno per cui molti dei nostri casi lo vedremo anche poi nella mobilità sanitaria di tipo ospedaliero per le prestazioni regolate in regime di ricovero si spostano fuori regione o comunque accedono a una diagnosi in questo caso ho una notifica di AIDS fuori regione e questi gli ultimi dati sull'incidenza di AIDS sono riferiti al 2011 dove sostanzialmente noi abbiamo dei valori che sono la metà in pratica quelli che vediamo noi in regione rispetto al dato nazionale che è di 1,8% per 100.000 residenti da noi in regione complessivamente 0,9% e si ripresenta questi dati attenzione sono abbastanza ballerini quindi di anno in anno possono fluttuare questo è l'ultimo dato che presentiamo ma ci sono forti fluttuazioni all'interno degli anni in studio ma si confermano in queste fluttuazioni viste negli anni il differenziale tra le grandi aree urbane della regione e le aree invece periferiche o rurali quindi chiaramente i grossi centri Cagliari Sassari in parte forse anche Oristano e Olbiattempio tendono ad avere un'incidenza di casi in maggiore rispetto al resto del territorio e in questo senso diminuiscono le proporzioni di AIDS che arrivano alla diagnosi di AIDS con una diagnosi di candidosi o di tubercolosi polmonare aumenta la frazione di diagnosi per sarcoma di caposi o linfomi e circa un quarto questo a livello nazionale sempre di AIDS è diagnosticato senza l'avvio di una terapia antiretrovirale precedente circa il 63% ignorava al momento della notifica AIDS di essere un serio positivo e qui si ripresenta il problema della diagnosi precoce di infezione di HIV e quindi della valutazione della sieropositività questo è il dato che si presenta in regione dal 2002 al 2011 sulla prevalenza è anche questo inficiato dal fatto che c'è una rivalutazione dello stato in vita dal 2006 in poi se vediamo il dato nel complesso sembrerebbe un trend in crescita è statisticamente significativo se guardiamo dal 2002 al 2006 questo trend non c'è sembra stabile il dato di prevalenza sulla notifica ad HIV lo è anche se guardiamo 2007 e 2011 il dato 2007 e 2011 allo stesso modo di quello presentato prima è inficiato dal fatto che non c'è una valutazione puntuale dello stato in vita abbiamo provato ma ci sono enormi difficoltà a cercare di trovare questi riscontri per motivi legati alla trasmissione dei dati il fatto che siano coperti da anonimizzazione eccetera parrebbe che questi casi effettivamente ce ne siano una buona quota intorno al 15-18% decedute quindi dovremmo in teoria riproporre i dati e spero che ci sia occasione anche al netto dell'espressione per la mortalità questa è la distribuzione da genere dei casi prevalenti e questo è da confronto con la certificazione dei dati proiettati a quelle che sono le notifiche del registro regionale come vedete la classe 25-44 anni è quella che la fa da padrona e c'è questo differenziale maschi e femmine totale che è di rapporto 3 a 1 che è particolarmente rilevante negli over 65 bene quali sono le prospettive in termini di sorveglianza due sorveglianze sulla stesso virus tra virgolette sulla stessa capacità che ha di creare problemi all'uomo con due sistemi diversi che hanno molte volte canali diversi schede diverse verosimilmente l'ipotesi è per garantire qualità riproducibilità e tempestività di un'unica scheda di segnalazione perché? perché questo dati COA dimostrano che c'è una sottonotifica incrociata cioè un 18% in meno di notifiche AIDS perché magari circostanziatamente viene fatta una diagnosi di HIV e non si fa poi la notifica dell'AIDS conclamato e viceversa uno fa l'uno e non fa l'altro quindi due sistemi come dire tra virgolette si disturbano come se fosse una sorta di onde di sassi nell'acqua che si incrociano e non permettono in quella linea di frontiera di chiarire e sono quelli magari i dati che poi scappano sfuggono e non danno il quadro completo della situazione e quindi l'idea del COA che sta proponendo è quella appunto di avere un'unica scheda di sorveglianza un aspetto importante perché ci fa capire non solo ci permette di dare la possibilità di quantificare qual è il carico di patologia per certi aspetti è più facile in malattie cronico-degenerative perché si hanno a disposizione altre tipologie di dati su dati di questo tipo il fatto che i dati vengono trasmessi in maniera anonima difficilmente riesce a fare il quadro completo anche perché molte volte le strutture a cui hanno accesso i pazienti trattano in maniera anonima e magari è lo stesso paziente che però ha un codice anonimo differente a seconda della struttura quindi rischiamo di sovrastimare il fenomeno perché stiamo guardando lo stesso paziente che ha avuto accesso con due codici anonimi diversi a due strutture differenti questo nell'area urbana di Cagliere è particolarmente rilevante essendoci più strutture rispetto a Sassari che erogano prestazioni di questo tipo essendoci anche un'esplosione da un punto di vista dell'assistenza sanitaria privata cosa si può fare? ricordo che la scheda di emissione ospedaliera comunque è un documento previsto per decreto ministeriale fondamentalmente raccoglie dati che devono quantificare e qualificare l'episodio di ricovero e ha al suo interno dei campi diagnosi che possono essere interrogati nello specifico ogni A7 è una diagnosi principale più 6 secondarie e per cercare di capire qual era il fenomeno questi sono i codici CD9-CM che possono essere utilizzati da parte del medico alla dimissione per inquadrare da un punto di vista diagnostico il caso clinico a cui ha prestato assistenza lo 042 è l'infezione da virus dell'immunodeficienza umana lo 079-53 è quello di tipo 2 il V08 è lo stato infettivo asintomatico da HIV il V01-79 è il contatto con o esposizione ad altre malattie virali che è usato molto spesso perché una fallace indicazione nell'indice alfabetico AIDS lo dice infezione da HIV è esposta infezione da HIV ma non è così il codice lo vediamo nella slide successiva e il 795-71 che sono prove sireologiche non specificate del virus d'HIV perché il V01-79 usato in maniera ne troviamo pochissimi però viene usato dice contatto con o esposizione ad altre malattie virali non HIV che sono tutte tranne quelle che vedete qui in precedenza quindi è chiaro che attenzione all'utilizzo di questo codice può essere distorsivo ma fortunatamente ne vediamo poco quindi i ricoveri che sono stati isolati sono stati classificati in base alla presenza mutuamente esclusiva di questi codici laddove c'era uno 042 quindi un'infezione da HIV-1 era certo era netto quindi indipendentemente dalla copresenza di altri codici non sono stati considerati e così a scendere quindi vedete che l'esposizione a virus abbiamo 6 ricoveri in 11 anni di osservazione quindi è minimale possiamo anche non stare a osservare questo fa vedere gli episodi di ricovero con dentro l'HIV-1 o l'HIV-2 ma anche quello è abbastanza raro come ricorso al ricovero l'andamento in regione questi sono ricoveri a carico di residenti ovunque erogati poi vediamoci un dato su quella che è la quota complessiva di ricoveri fuori regione e anche qui vediamo un trend in diminuzione molto forte nel complesso ma particolarmente marcato per i ricoveri diurni è abbastanza marcato comunque statisticamente significativo per i ricoveri ordinari qui ci sono due riflessioni molto forti perché questo declino del trend è derivato sicuramente da un fatto che è puramente di tipo amministrativo ci fu una campagna molto forte dell'assessorato della sanità tra il 2005 e il 2006 per sensibilizzare la registrazione impropria degli accessi in regime diurno perché la gran parte di questi ricoveri come vedete sono accessi di tipo diurno la stragrande maggioranza e quindi questa evidenza può essere l'effetto diciamo così di una più attenta registrazione non un accesso un ASDO ma tutto il ciclo diciamo così di diagnosi e cura all'interno del regime di ricovero circostanziato a un unico accesso e quindi viene contato una volta solo oppure può essere che c'è effettivamente una diminuzione del carico del bisogno assistenziale per questa patologia per questa patologia o ancora che si è attuato uno shift marcato abbastanza forte dell'assistenza non ospedaliera e quindi tutte quelle forme di assistenza che sono diciamo così a livello territoriale che non impattano e non incidono più con l'attività ospedaliera analisi da fare più in dettaglio anche perché purtroppo non si è avuto il tempo di recuperare i dati di quella che è l'attività invece di tipo prettamente territoriale cos'altro si può fare per capire come si muove l'accesso a prestazioni ospedaliere è quello di andare a vedere questi ricoveri in che DRG sono esitati vi ricordo che una major disease classment cioè un raggruppamento ulteriore di DRG raggruppa i DRG HIV tra virgolette in una MDC specifica che è la 25 e quindi siamo andati a vedere a dividere praticamente quelli che erano ricoveri esitati in un DRG specifico che è la classificazione delle prestazioni erogate in regime ospedaliero per HIV e sono il 488 il 489 il 490 e invece quelli che andavano a finire come DRG esitati in un altro DRG allora di questi 44.553 ricoveri complessivi visti in questi 11 anni circa il 2,5 sono erogati fuori regione quindi la quota di accesso all'ospedalizzazione per HIV fuori regione è in questo ordine di grandezza e vedete che i DRG specifici hanno tutti 1,042 in diagnosi e quindi chiaramente sono l'HV associato ad un intervento chirurgico esteso ad altre patologie maggiori correlate o non associato ad altre patologie correlate che è la più parte della casistica erogata con 93,2% cosa succede a chi ha accesso e non ha un esito DRG HIV specifico scusate questo gioco di parole e questa è una diciamo così è una rappresentazione per far capire dove vedete tutta una serie di diagnosi questi sono i DRG esitati come il 3,95 nel caso di quelli che hanno una diagnosi per HIV ma che non esitano in un DRG specifico cirrosi epatica e alcolica malattie del fecal teocetoneoplasi medellini e così via comunque vedete patologie fortemente legate alla condizione di 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 conclamato DRG esitati non specifici per chi invece ha un'infezione asintomatica che sono malattie di origine virale cirrosi epatica notate sono pochi ma 3,7,1 parto cesareo senza complicazioni ritorna il discorso che veniva fatto un'introduzione dal dottor Secchi riguardo alla circostanza di verifica di sieropositività in circostanza di parto e infine quando non c'è una classificazione specifica della sintomatologia HIV correlata fondamentalmente troviamo il 3,99 che sono disturbi del sistema reticolendoteliale immunitario senza complicazioni e così via scusate bene una cosa che adesso è quanto impatta da un punto di vista di assistenza sanitaria erogata in regime ospedaliero l'ospedalizzazione con una diagnosi di HIV a qualsivoglia titolo o dentro prodotta questi sono i dati dell'ultimo anno disponibile il 2011 dove vedete che la regione complessivamente ha l'1,3 ma dove vedete che c'è una forte come dire stiramento legato al valore dell'aslotto quindi come territorio regionale che ha un tasso di 2,5 per mili abitanti contro invece lo 0,6 l'altro polo urbano di Sassari e gli altri a scendere la regione senza l'aslotto avrebbe 0,6 quindi sarebbe in asse con Sassari fondamentalmente se questa previsione può essere fatta questa diciamo così questa questa ospedalizzazione è trascinata però non tanto dal ricovero ordinario che nel ricovero ordinario vedete il tasso regionale complessivo è 0,3 ogni mili abitanti è fondamentalmente 0,2 dove Cagliari ha 0,3 e Sassari 0,2 cosa significa questo significa che l'eccesso tra virgolette di ospedalizzazione che vi è notato nell'aslotto che è anche legittimo per via dei numerosi centri per via dell'impossibilità di discriminare comunque perché il paziente ha libero accesso oggi va dall'uno magari decide di andare dall'altro attenzione c'è il privato accreditato con molti di questi ricoveri c'è una circostanza di diagnosi di HIV ma sono legati a tutto l'altro è sufficiente che sia un intervento al ginocchio che contestualmente viene inserito anche il codice inevitabilmente e quindi quell'intervento ricade in questa casistica quindi non vuol dire niente da un punto di vista di quantificazione del carico di patologia però è chiaro che è solo il regime diurno quindi verosimilmente parte forse del fenomeno che si era cercato di ovviare di fare esplodere il ricoveri con un accesso un asdo ancora va allimmato ma forse va allimmato anche un certo discorso di percorso diagnostico terapeutico più esteso più allargato magari anche con una presa in carico più certa e una comunicazione tra i diversi centri anche per evitare che ci sia una conta diciamo così esponenziale poi dei casi infine questa è la distribuzione per il 2011 della ripartizione per sesso per fascia d'età e anche qui comunque si conferma la fascia 45-64 e si conferma anche quel rapporto maschi e femmine intorno a 3 in quella fascia d'età è all'incirca di 2,5 nel complesso queste alcune considerazioni legate al fatto che comunque dalla delibera CIP la legge del 5 giugno numero 135 abbiamo all'incirca 1.300.000 euro a disposizione parte per la formazione parte per il trattamento domiciliare poi mi faccio carico un attimo dell'intervento che era del direttore generale programmazione il mio è un punto di vista inevitabilmente come dire deformato dall'attività che faccio però la prima base di partenza sana valida attendibile sono i dati quindi dal mio punto di vista dobbiamo assolutamente lavorare per una qualità e completezza del dato ottimale ci sono tutti gli strumenti c'è un gruppo tecnico regionale istituito vedo gran parte qui ci sono collaborazioni già in atto con Sassari con Giordano con la professoressa Mola cioè costantemente si tratta di muoverci la regione io ho un mandato specifico di lavorare in questa direzione e cercare di coordinare queste forze perché con i dati e quindi con tutta l'informazione che si può ricavare il discorso che faceva prima l'assessore della spisa di prevenzione di diagnosi precoce percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziale è sicuramente fattibile ringrazio tutti quelli che hanno collaborato e soprattutto gli operatori del servizio sanitario regionale per il supporto che danno e ringrazio a voi per l'attenzione grazie grazie dottor Antonelli per il lavoro che ha fatto e per quello che farà penso che io ho speranza che riusciamo ad arrivare all'obiettivo basta semplicemente con la sua guida con il suo punto importante con la collaborazione io spero che riusciremo prima o poi anche perché come ha illustrato lei è una cosa estremamente importante senza la quale non possiamo veramente neanche chiedere e questo mi riallaccio proprio al bel intervento della signora Spisa non possiamo neanche chiedere quindi non soprattutto ne chiedere e neanche sprecare non dobbiamo neanche sprecare io penserei il dottor Pigli è andato a fare l'intervista però penso di poter prendere la responsabilità di fare la discussione alla fine dopo l'altra relazione che è del dottor Massimo Ciccozzi dell'osservatore del COA dell'Istituto Superiore di Sanità il dottor Ciccozzi è il primo collaboratore dell'ottorezza per noi in particolare per l'Istituto di Sassari è un caro amico con cui abbiamo sempre collaborato che non ci fa mancare il suo supporto mai e quindi sono molto lieta che sia dispiaciuta che non c'è dottorezza che oggi è impegnato ovviamente a Roma però molto lieta che abbia fatto la scelta grazie grazie